È stata osservata e apprezzata per più di un mese dai viaggiatori che hanno frequentato l'aeroporto di Roma Fiumicino e ora sta per tornare a Caltanissetta, l'ultima cena. L'esposizione infatti nel molo E, area in barchi internazionali dell'aeroporto Leonardo da Vinci, iniziata il 4 febbraio, si conclude il 21 di marzo. E mentre all'inizio del suo viaggio il destino nelle processioni della settimana Santa Nissena per quest'anno era ancora incerto, al suo ritorno ritrova la città in fermento per i preparativi per i riti pasquali. È stata una manifestazione di cui abbiamo risultati eccellenti. È stata una bellissima organizzazione, ringrazio l'amministrazione comunale e Michele Spena che si sono oltre alla categoria naturalmente i panificatori che ha messo a disposizione la vara e l'ultima cena. È stata una bellissima iniziativa proprio per far conoscere le nostre tradizioni, le nostre vare, ma non le vare, cioè non semplicemente il giovedì sanno, ma tutta la settimana santa, cioè quella vara rappresenta tutta la settimana santa. La settimana santa, sempre nel rispetto delle normative nazionali che saranno in vigore in quel momento, dovrebbe cominciare il 9 aprile con la via Crucis, nella quale saranno presenti per le vie del centro storico le vare. Le stesse poi ripercorreranno il tragitto tradizionale la sera del giovedì santo. Dopo due anni, veramente, questa città e tutti gli operatori della settimana santa non vedono l'ora e sentono proprio la necessità di tornare alle processioni. È stata, come dire, un via vai, un susseguirsi di notizie, fino a quando poi la Gesi, rappresentata dal nostro vescovo Monsignor Russotto, ha dato il via libera alle processioni. Per cui noi ci stiamo già preparando, stiamo mettendo a puntino tutto ciò che necessita per fare una bella processione, che sia rispettando le regole così indicate dalla Gesi e quindi dal nostro vescovo che ringrazio veramente infinitamente perché ci ha riunito tutte le associazioni dando le indicazioni, quelle che dovevano essere i canoni per fare una bella processione. Se qualcosa dovesse andare per, diciamo, per male in merito alla pandemia, noi siamo pronti pure per il piano B. Il piano B prevede comunque l'uscita delle vare con l'esposizione in cattedrale e il giovedì santo le vare usciranno alla cattedrale per posizionarsi lungo Corso Umberto e saranno lì statiche, saranno lì ferme in esposizione. È una semplice esposizione, però, dico, quantomeno si torna a poterle ammirare, anche volendo a pregare davanti a questi gruppi sacri che, dico, in questo momento ne abbiamo tanto bisogno.